e qui da quelle finestre della sua casa in via bonifica bellona che state vedendo nelle immagini che nel pomeriggio del 22 gennaio scorso Davide Manco un ex guardia giurata impracciò il fucile uccise prima la moglie poi tentò di rincorrere la figlia quattordicenne infine dalla finestra continuò a sparare su quanti passavano lungo alla strada che state ora vedendo nelle immagini sia sulle macchine che sulle persone Ferentoni 5 compreso il maresciallo dei carabinieri che era corso sul posto poi dopo ore di inutili trattative con i carabinieri e i suoi anziani genitori che tentarono di convincerlo a desistere si sparò un colpo di pistola alla testa eppure Davide Manco non era conosciuto come un tipo strano o pericoloso anzi sono una persona tranquilla, educato, calmo, parlavamo del più del meno, pallone alla politica come parlo con chiunque cliente che viene qua in bar e infatti lo incontrai pure lunedì mattina alle 5 qui fuori e io dissi ma cosa fate già qui fuori e lui mi disse no Piero sto preparando la macchina perché devo partire per il lavoro la giovane figlia sotto shock per aver visto morire la madre scappò prima al vicino bar sotto casa molto frequentato dai clienti poi fu messa in salvo e barricata all'interno del vicino supermercato proprio dallo stesso titolare Pasquale Carusone che ci racconta a fatica quegli attimi terribili sotto i colpi di fucile che si udivano fuori proveniente dal piano superiore proprio sopra il suo centro commerciale Allora siamo al 22 di gennaio nel primo pomeriggio che cosa ricordi di quel momento? Niente abbiamo sentito degli spari per la cassa scala del supermercato e siamo corsi fuori abbiamo visto la bambina che piangeva e continuiamo a sentire gli spari dalle finestre e niente mi sono corso per prendere subito la bambina e portarla in riparo nel mio supermercato La bambina in pratica era scappata perché inseguita dal padre? Sì la bambina era scappata perché comunque il padre aveva sparato la mamma per la cassa scala quindi la bambina stava fuggendo per non essere probabilmente pure le colpita ed è corsa verso il bar e dal bar poi l'ho portata all'interno del supermercato per metterla in riparo Quanto è che avete capito esattamente le dimensioni di quello che stava succedendo? Quando all'uscire fuori vedevo la bambina piangere e diceva che il papà aveva sparato la mamma quindi a quel punto abbiamo capito che la cosa era molto grave e bisognava fare qualche cosa almeno per la bambina Poi che cosa è successo? Sono arrivati i carabinieri? Sì fortunatamente sono arrivati subito i carabinieri della stazione di Vito Lazio e noi si eravamo barricati all'interno del punto vendita ma nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti massimo sono arrivati un sacco di carabinieri e polizia e a quel punto siamo sentiti un po' più sicuri della situazione anche se lui ha tentato un po' prima di buttare una bombola di gas aperta nel parcheggio del mio supermercato ci ha sparato dentro però non l'ha presa Quindi una bombola piena immagino? Sì fortunatamente qui si sentiva il gas dappertutto Quindi lui continuava a sparare da dove esattamente? Lui si spostava sia dalle due finestre della scala e sia dai due balconi che c'aveva in manzarda Quindi quando è che avete capito che poi il tutto stava per finire? Quando, vabbè, con la riva del carabinieri un po' così si è calmata la situazione anche se i carabinieri hanno adottato un massimo sforzo per farlo tranquillizzare, per cercare di mediare però poi alla fine è finita come è finita perché il signore si è ammazzato L'ultima domanda In che condizioni era la bambina quando è arrivata da lei? Immaginiamo tutti quanti come poteva stare Immaginate Stava malissimo, molto male Cercava la mamma Voleva salvare la mamma a tutti i costi Poi è arrivato anche il papà e la mamma di questo signore, no? Sì è arrivato il papà del signore, di Davide Ed è stata straziante la scena di quando si voleva far sparare perché lui diceva che non aveva più niente che ormai la sua vita era finita così Qualche giorno fa a Bellona si è svolta una fiaccolata per ricordare quel maledetto pomeriggio del 22 gennaio e probabilmente si sono spenti i riflettori per sempre su uno dei casi più drammatici di questo piccolo centro della provincia di Caserta Da via Bonifica a Bellona è tutto Lorenzo Applauso per casertasera.it Grazie a tutti